Stiamo recuperando la roba dispersa ieri dai manifestanti del presidio autorizzato, c'è veramente di tutto, stiamo all'età riempiendo la macchina, i sacchi, di questa roba si tenterà recusibili, si tenterà di avvisare i rispetti proprietari, là in fondo c'è un gazzetto che sarà stato usato come scudo contoglialmente, qui giù ci hanno segnalato altra roba, a dire da qua, tutta roba, ripeto, del dato, ho un apparecchio per i denti che ne parecchio a conservare, ma un materasso, un telo. Grazie a tutti.